bene intanto devo ringraziare il parco di portoconte perché ci ha consentito questa manifestazione il patrocinio la giornata è andata bene era un po grigio all'inizio poi piano piano si è schiarito adesso abbiamo una bella luce abbiamo visto molte molti molti uccelli molte cose in particolare adesso dietro alle nostre spalle sono andati via due fatti pescatori che hanno fatto un ampio giro hanno cercato di pescare sono spostati niente se è stata l'occasione per avvicinare un po di persone allo staglio di calic qui abbiamo un'area attrezzata importante dobbiamo cercare di farla farla vivere infatti pensiamo di fare manifestazioni simili anche in futuro però oggi si tratta di una gara la gara internazionale che si chiama euro birdie watching per cui ogni delegazione organizza un evento e chi vede più animali più uccelli e più specie vince c'è poi anche una specie che viene indicata come misteriosa che chi ne vede di più vince cosa non vince in effetti non vince nulla perché il premio è un premio simbolico però ci serve soprattutto per avvicinare le persone lo stagno di cali che nell'occasione è uno stagno importante perché abbiamo visto specie migratorie ci sono specie stanziali che nidificano qui che sono andate via magari l'airone rosso che è andato via però abbiamo visto che ne so le niticore che sono abbastanza rare che sono dei piccoli eroni ehm